Un saluto amici del Centrometo Italiano, anticiclone africano in arrivo sul Mediterraneo centrale nel prossimo weekend di metà luglio, con ondata di caldo sulla nostra penisola. Temperature sopra la media da 2 a 4 gradi sull'Italia, localmente fino a 6 gradi sulle isole maggiori. Nella giornata di sabato temperature massime fino a 34-35 gradi al nord, in particolare sul Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, fino a 35-36 gradi nelle zone interne di Toscana, Umbria e Lazio e localmente oltre 38-39 sui settori interni delle isole maggiori. Valori simili anche nella giornata di domenica, quando il sole sarà prevalente da nord a sud, ad eccezione di qualche temporale, su Alpi e Appennino centro-settentrionale. In aumento anche le temperature dei bacini italiani con i valori compresi tra 23 e 26 gradi. Per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo del weekend, seguite gli aggiornamenti sul nostro sito o sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano!